Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come A quanto pare è finita la storia d'amore tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. Secondo quanto riportato da D'Agost Pia l'attore avrebbe tentato un riavvicinamento con l'ex fiamma Ngarad Wood I due sono stati insieme diverso tempo e dalla loro relazione è poi nata la figlia Emily, ma sarà vero? Scopriamolo insieme. Dopo l'arrivo della figlia infatti i due si erano allontanati fino a perdersi completamente Scamarcio avrebbe poi conosciuto l'attrice Benedetta Porcaroli innamorandosi di nuovo, dando così dato un'altra possibilità all'amore Ora però sembra che la fiamma che faceva ardere questa coppia si sia affivolita e iniziano a girare voci secondo cui Riccardo Scamarcio avrebbe tentato un riavvicinamento con la mamma di sua figlia Stiamo parlando dell'ex compagna dell'attore Ngarad Wood.È tutto finito, Riccardo e Benedetta si sono lasciati L'amore dei due attori è nato proprio sul set durante le riprese del film L'ombra del giorno, ma adesso sembra proprio che i due abbiano deciso di prendere strade diverse A dirla tutta, secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, sembrerebbe essere stato Scamarcio a mettere un punto alla relazione Le motivazioni che girano intorno a questa rottura improvvisa e inaspettata sembrano ricollegarsi all'ex compagna dell'attore Nonostante Scamarcio sia molto geloso della sua vita privata, essendo un personaggio pubblico e un attore molto amato, di privato nella sua vita c'è rimasto ben poco Infatti sappiamo che dopo qualche mese dalla rottura con la sua compagna Storia Valeria Golina, l'attore ha trovato conforto tra le braccia della manager di successo Ngarad Wood Lei non ha mai amato essere sotto i riflettori, infatti è difficile trovare foto dei due insieme Ed è proprio con Ngarad che Riccardo è diventato diventato papà per la prima volta Il 2020 è stato infatti un anno da ricordare per Riccardo, che ha conosciuto la sua piccola Emily durante il mese di luglio Ad un certo punto però il cuore di Riccardo è stato rapito da una giovane attrice, ma di chi stiamo parlando? Proprio di Benedetta Porcaroli Un colpo di fulmine ha spazzato la sua relazione con Wood.Ritorno di fiamma con Ngarad Wood In questo caso la frase certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano calza proprio a pennello Sembra che l'attore sia tornato su suoi passi e abbia cercato di riavvicinarsi alla sa ex compagna, nonché madre di sua figlia Secondo quanto riportato da D'Agost Pia infatti, la rottura tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sarebbe da ricollegarsi al riavvicinamento dell'attore ad Ngarad Wood, con la quale nel 2020 ha avuto la sua prima figlia Emily La relazione tra la protagonista della seguitissima serie TV Netflix Baby e l'attore 42enne sembra perciò essere volta al termine dopo appena un anno C'è da aggiungere che la relazione tra i due non è mai stata davvero ufficializzata, ma era deducibile dalle interviste fatte alla giovane attrice Ora vedremo se Riccardo è davvero ritornato su suoi passi.Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video